Assessore Giuliante, emergenza neve febbraio 2012, la macchina organizzativa della protezione civile ha funzionato al 100%? Sì, la macchina organizzativa della protezione civile ha funzionato al 100%, la prima emergenza è stata segnalata il 30 gennaio, diversi giorni prima della precipitazione importante che c'è stato il 3E, ma soprattutto c'è stata una risposta da parte del mondo del volontariato che come sempre è stata eccezionale. Molte critiche che sono arrivate facevano riferimento alla non conoscenza di quelli che sono i compiti di protezione civile. La protezione civile deve per istituto intervenire soltanto quando c'è un problema che riguarda la vita delle persone, l'incolumità quindi di uomini e cose e in riferimento a questo non ha alcuna competenza per la pulizia delle strade, siano esse comunali, provinciali o statali. E a quanto ammontano le stime dei danni che hanno prodotto i vari comuni colpiti? Quasi l'interesse di quelli abruzzesi? Allora, intanto c'è stato un fenomeno che è stato esteso e che ha colpito il 96% della popolazione abruzzese, ha colpito anche il 90% dei comuni abruzzesi, poi ci sono due linee di ristoro del danno, uno che fa riferimento all'emergenza in senso stretto ed è quello che compete alla parte statale che è correlata alle attività svolte appunto dalla protezione civile ma anche alle spese autorizzate dai sindaci per far fronte all'emergenza acuta e poi c'è un'altra linea di finanziamento che è quella del Fondo Sociale Europeo per la quale i comuni abruzzesi hanno sostanzialmente chiesto un ristoro del danno abbastanza importante che finora è stato dagli stessi indicati per circa 240 milioni di euro.